Pericoloso soprattutto con i fruttori Allora 0-3, 0-3, trentesimi Quindi è guaiato Macioli Venere i ravioli come tempo di reattività E' pronto Luca Filippetti con il numero 42 Luca Scar Eccolo qua il pilota di Castelfilardo C'è Retano se non erro Già prontissimo Ancora un minuto nemmeno per il via E poi avremo i due vellei Con Andrea e Daniele vellei Pronti a chiudere la penultima manche E poi anche la finale Con l'ultimissima manche Intanto resta sempre Il miglior punteggio è quello di Caprioli Il miglior punteggio è il miglior punteggio Un minuto Un minuto Il miglior punteggio è il miglior punteggio Il miglior punteggio è il miglior punteggio Il miglior punteggio è il miglior punteggio è il miglior punteggio Il miglior punteggio è il miglior punteggio è il miglior punteggio